Sono quasi 4.000 le multe annullate a Milazzo per il cambio corsia al semaforo. I verbali sono stati annullati dalla segretaria generale Andreina Mazzù, che il mese scuso ha avvocato a sé l'intera materia. È stato recepito in pieno il parere espresso sulle multe dal Ministero dell'Interno. La segretaria ha fatto sapere che attende l'esito dell'istruttoria delle sanzioni relative all'ultimo periodo nel quale sono avvenute le contestazioni, per procedere, lì dove ricorrono i presupposti, all'annullamento degli stessi, ancor prima che a pronunciarsi siano i vari giudici di pace ai quali numerosi automobilisti multati si sono rivolti. Automobilisti che ovviamente non subiranno a questo punto ovviamente neppure la temuta decurtazione dei punti dalla patente.